La salute quindi non è mancanza di malattia, ma è vivere in uno stato di benessere con se stessi, con gli altri, quindi nelle nostre relazioni, nella società, nel nostro ambiente di lavoro. È molto importante l'armonia e l'equilibrio. Ebbene attraverso l'olismo abbiamo dei risultati straordinari. Grazie a medici importanti che hanno vinto premi Nobel come Otto Warburg nel 1933, che ha scoperto le vere cause del cancro, come Ushumi, premio Nobel alla medicina nel 2016 e tanti altri medici come Walter Longo, Colin Campbell. Abbiamo la conferma che oggi la salute è veramente data da una serie di fattori che cominciano con la nostra alimentazione. Ebbene partecipa ai nostri programmi di detossinazione profonda perché è proprio attraverso la purificazione, la pulizia degli organi e i montori, l'eliminazione di virus, batteri, metalli pesanti, polveri sottili, scorie in eccesso, tossine emozionali che sono ancora più resistenti e difficili da eliminare. Ebbene attraverso questo programma di purificazione profonda degli organi e i montori noi riabilitiamo tutto l'organismo ad uno stato veramente di armonia, di equilibrio e di benessere, con dei risultati anche nel campo della salute davvero incredibili. Alcuni dicono miracolosi. Noi, sì, sosteniamo questo miracolo che è la vita, che è la vita in armonia con il tutto. E quindi effettivamente ricreiamo quell'armonia dentro e fuori di noi. Attraverso l'utilizzo di prodotti d'eccellenza, ovviamente, prodotti che hanno quattro marchi di garanzia, che hanno il marchio Co-Share, che certifica la purezza spirituale del prodotto, che per me è molto importante. Attraverso un percorso di crescita personale. Personale che può diventare un riequilibrio psico-emotivo, ma anche spirituale, per chi ha desiderio di aprirsi a nuovi e sempre più espansi livelli di coscienza. Quindi la salute oggi è veramente un insieme di grandi opportunità per realizzare se stessi. Oggi siamo in un momento in cui è importantissimo conquistare la propria leadership, che non è un comandare se stessi, ma è un attivare le proprie potenzialità, ovvero tirar fuori tutti i propri talenti, tirar fuori la nostra massima realizzazione. E tutto parte da quello che mettiamo in bocca. E quindi è importante mangiare in modo salutare. associati al nostro metodo semplice. Ci stiamo confrontando con i più grandi scienziati del mondo e stiamo avendo degli ottimi riscontri su quello che stiamo portando avanti come nuovo metodo di cura, di benessere, di stili di vita. È fondamentale, proprio in presenza di batteri e virus sempre più aggressivi, dato dall'inquinamento globale massiccio sempre crescente, avere un metodo che sia sicuro. E il metodo sicuro è quello dato dall'esperienza di persone che per anni e anni precedentemente hanno già testimoniato questa opportunità. Questo metodo è così semplice. È fondamentale quindi mantenere il microbioma intestinale in perfetto stato di salute. Il microbioma intestinale è un organo molto, in questo momento, chiacchierato, possiamo dire, di cui tutti parlano, perché è un organo che viene a essere costituito fino a due chili, pensate, ed ha fino a dieci volte il numero delle nostre cellule in più. Quindi è un organo enorme dal punto di vista proprio della consistenza, dell'importanza ed è proprio l'organo preposto alle difese immunitarie. Quindi è fondamentale che stia bene. E qualsiasi virus, qualsiasi batterio può intaccare il corpo solo se il corpo è in uno stato di acidosi, ovvero è, io dico, quando il corpo è acido è, non so, inconsistente, possiamo dire, senza forza, senza energia, perché è proprio la costituzione dell'acido che si deteriora, che si proprio estingue in qualche modo. Inizia cioè quel processo di fermentazione e putrefazione, mentre le cellule sane, quelle alcaline, hanno proprio un'altra consistenza, sono turgide, sono forti e virus e batteri non vi entrano e tanto più non si radicano. Quindi mi raccomando, forza con le difese immunitarie, stiamo andando incontro all'inverno, quindi al circuito funzionale del rene dove risiede la nostra energia ancestrale. È importantissimo tenere il rene bene, vitale. Andiamo a lavorare su tutti gli organi interni, facciamo una pulizia profonda che è una doccia interna degli organi emuntori. Alcalinizziamo tutto il corpo con una nutraceutica d'eccellenza, non possiamo altro che stare bene. Iscriviti e registrati nel nostro team olistico.